un po' credo che non è buona essere sorda un po' per il sardo 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 non è quello non è quello è quello che è quella ma e ha detto come va che è quello a a a o 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 che si è che lì non ti è uno molto anno il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.